ciao a tutti e buona ripresa di campionato perché con il derby in prima fila c'è una giornata in cui c'è tanta curiosità per i nuovi per i tanti cambi di maglia importanti che abbiamo visto nell'ultimo mercato un mercato che non finisce mai le polemiche sono dietro l'angolo perché ci sono i nuovi che tardano ad arrivare e ci sono tante curiosità di cui informarvi perché per esempio quel renato sanchez destinato al milan a che punto sta davvero la trattativa con il lilla perché negli ultimi giorni ci sono state delle accelerazioni solo tentate in realtà c'è un muro bisogna vedere quanto alto perché ricordiamolo il giocatore portoghese è in scadenza di contratto con il club francese quindi anche se il milan e il lilla possono avere una intesa di massima bisogna raggiungere l'accordo con il giocatore che ha delle lusinghe dalla premier oltre che dalla germania lui in realtà dopo l'esperienza del bayern monaco non sembra orientato a ritornare da quelle parti ecco perché il milan deve fare i conti con questa concorrenza nonostante tutti i contatti con george mendes il suo procuratore siano stati sinora incoraggianti ma non al punto tale da arrivare a un'intesa e questa è un'altra partita che si gioca anche sul fronte di raffaele hao l'altro pezzo importante della triade dei rinnovi in casa rossonera insomma questi sono gli argomenti salienti di un periodo significativo in vialdo rossi perché il mercato si è chiuso senza rinforzi e a parte l'azetich e poi c'è la questione che di che essi e di romagnoli che non rinnoveranno sotto questo profilo sempre alla francia è arrivata una notizia confortante in questo caso dall'olandese botman perché c'era stato l'assalto del newcastle nelle ultime ore del mercato per provare a prenderlo subito lui a chiusura delle liste è stato molto diplomatico ha detto il newcastle ringrazio per l'interesse e poi il milan è un club dalla storia affascinante quindi un implicito messaggio di attenzione che incoraggia Maldini e Massara che su questo fronte evidentemente hanno lavorato con più risultati e appunto invece lascia degli interrogativi quell'atteggiamento di Renato Sanchez che non appare altrettanto determinato almeno non si è sbilanciato e questo apre le porte a un piccolo giallo vedremo se appunto nelle prossime settimane ci sarà un'accelerazione sia su Sanchez che soprattutto su Leao perché non dimentichiamo il portoghese è uno dei punti di forza del Milan anche per il futuro intanto aspettiamo da un giorno all'altro magari dopo subito dopo il derby la firma di Theo Hernandez insieme a quella di Benazer sono questi i passaggi più importanti di un mercato che sta entrando nel vivo in attesa di capire poi chi sarà il nuovo attaccante perché in ogni caso per la prossima stagione con Ibrahimovic sempre più condizionato dei suoi tanti infortuni non basta Giroud e Lazetic lo stiamo aspettando vogliamo vedere quanto è pronto davvero le speranze sono tante per il serbo ma occorre la verifica del campo l'effetto Vlaovic evidentemente apre le ali della Juve con l'arrivo di Denis Zaccaria è stata messa a segno una coppiata che può fare la differenza ma al di là dei bilanci cosa si muove adesso in casa bianconera? l'impressione è che i dirigenti sperano di avere un aiuto dal campo cioè che per esempio Di Bala si è invogliato ad accettare le proposte per un rinno di contratto che ricordiamolo sarà di 7 milioni sarà un triennale cioè prenderà anche meno in proporzione di Vlaovic e l'argentino si sottoporrà a queste forche caudine oppure entrerà in rotta di collisione e questo è un elemento importante che aiuta anche a leggere tutta l'attenzione per Nicolo Zagnolo perché in queste ore l'incauta diciamolo affermazione del dirigente portoghese della Roma Tiago Pinto ha aperto tutti i clamori possibili sul rinnovo dell'attaccante giallorosso che è sicuramente nel mirino della Juve però è altrettanto vero che questa vicenda ha tempi lunghi perché Zagnolo ha il contratto fino al 2024 e tutti si augurano che sappia nelle prossime settimane confermare quello stato di forma intravisto proprio all'inizio dell'anno quindi Zagnolo può diventare un obiettivo della Juve al posto di Dybala è un'ipotesi così come bisogna fare attenzione in casa Juventina alle mosse di De Ligt che ha espresso il desiderio di andare a fare nuove esperienze sappiamo bene che su di lui ci sono sia il Chelsea che il Barcellona ed è il motivo per cui Cherubini sta intavolando dei contatti per dei possibili sostituti anche perché l'esigenza primaria è quella di un regista ecco perché se De Ligt dovesse andare al Chelsea ecco che Giorginio diventa la soluzione ottimale per Allegri in alternativa l'olandese va in Catalunia allora c'è l'attenzione per De Jong altro pezzo pregiato del mercato internazionale e sullo sfondo comunque c'è Colibali perché intanto Gatti è arrivato ma è un giovane di grandi speranze per la Juve che sta programmando il futuro c'è bisogno di certezze soprattutto se Giorgio Ghellini come la carta di identità ci dice prima o poi lascerà e quindi questo è lo scenario di una Juventus che sta davvero pensando in grande perché dopo essersi fatta trovare impreparata per l'uscita di Cristiano Ronaldo proprio a tre giorni alla fine del mercato ora la famiglia Agnelli ha finanziato una campagna di potenziamento davvero spettacolare e vedremo se questi rinforzi arrivati dal mercato daranno la spinta immediata per ritrovare un posto in Champions League e magari per fare avanti più strada possibile a cominciare dall'ostacolo del Villareal delle parti di Appiano Gentile sicuramente sono soddisfatti per gli arrivi di Gossens e di Caicedo e questo è un altro spicchio di ottimismo per Simone Inzaghi ma c'è il futuro che incombe e Marotta e Osilio sono come al solito molto molto tempestivi quindi cosa accadrà con Brozovic? perché molti segnali fanno pensare che il Corato sia vicinissimo al rinnovo sino al 2026 con un stipendio al top cioè da 6 milioni e mezzo di euro ma questa firma ancora non si è vista e quindi un minimo di attesa va alimentata per capire se poi davvero tutto va nella direzione giusta e insieme al Croato di centrocampo c'è anche la freccia a sinistra quell'Ivan Perisic che sinora non si è dimostrato molto attento alle offerte nere azzurre anche per questo è arrivato Gossens ma intanto prosegue il dialogo con il Sassuolo per altri due giocatori che sicuramente animeranno il mercato estivo ovviamente mi riferisco a Gianluca Scamacca e a Frattesi che sono stati richiesti ufficialmente al club emiliano prestito con diritto che diventa obbligo solita formula che guarda il futuro dell'Inter ma ancora non si hanno segnali di accordi né potrebbe essere però c'è il feeling con i giocatori che indubbiamente non vedono l'ora di rispondere alla chiamata e questo è il canovaccio di un mercato che però non si fermerà qui non dimentichiamo che sia De Vrij che Skriniar sono in scadenza tra un anno o poco più ecco perché c'è tutta l'attenzione per tutti quegli obiettivi in difesa che sinora hanno caratterizzato le cronache mi riferisco a Ginter che in arrivo dal Bundesliga ma anche a Bremer che appena ha rinnovato con il Torino sono pezzi forti la dimostrazione che all'Inter si sta sempre guardando al meglio con l'obiettivo di dare a questa rosa una continuità sempre ad altissimo livello